Splendida struttura a Monte Marzo d'Asti, la location del catering Cuochi è a vostra disposizione per accogliervi nel giorno delle nozze e farvi trascorrere momenti indimenticabili, grazie all'eleganza dei suoi ambienti e alla cortesia del personale che vi seguirà con professionalità e massima attenzione. La struttura si presta ad accogliere ricevimenti nuziali e altre cerimonie fino a un massimo di 200 invitati. La sala aperta sul giardino permette di consumare il pranzo in un ambiente esclusivo ed accogliente. Il giardino è la cornice perfetta per allestire romantici banchetti all'aperto nei mesi più caldi, godendo appieno del contesto naturale di suggestiva bellezza che circonda la struttura. Il personale di catering Cuochi sarà a vostra disposizione per aiutarvi nei preparativi, negli allestimenti e nella scelta dei menu che più si addicono ai vostri gusti. La cucina del catering Cuochi si presta a rispondere a ogni esigenza organizzativa. Vi sarà garantito il giusto menu in grado di soddisfare ed allietare i palati dei vostri invitati. Catering Cuochi è ciò che stavate cercando per creare il ricevimento di nozze che avete sempre sognato.